Quali sono i tempi previsti per la realizzazione di questa palestra? Attualmente i lavori sono fermi e si trova vicino al campo sportivo, quindi in una zona anche abitata, in una zona che può anche essere un fiore all'occhiello del comune di Sant'Arsenio. Nelle intenzioni della nostra amministrazione c'era proprio quello di creare una zona per lo sport con una palestra, con i campetti che dovevano essere rifatti e con il campo sportivo che comunque è già un'ottima struttura. Il problema è che naturalmente in questa fase economica particolare la Regione Campania non trasferisce i fondi previsti per i lavori come quelli della costruzione della palestra. Non abbiamo avuto la concessione, c'è stato garantito da parte della Regione che avrebbe provveduto a pagare naturalmente la ditta che provvedeva ai lavori. Questa ditta, la ditta Grandino, ha provveduto a iniziare i lavori, ha avuto la prima tranche di pagamenti, dopodiché ha continuato i lavori a sue spese fino a che naturalmente l'esposizione era troppa, la Regione ha continuato a non pagare e i lavori si sono interrotti. Adesso sembra che in questa fase ci sia da parte della Regione la volontà di continuare nel pagamento, quindi penso che riprenderanno al più presto, anche se come noi prospettavamo la possibilità di un utilizzo già da un anno della palestra, infatti anche la squadra di pallavolo di Sala Consilina alla Punto Hotel aveva fatto richiesta per poter accedere a questa struttura, tenendo presente che non si tratta poi di una palestra, ma si tratta di un vero e proprio palazzetto dello sport, molto bello, creato con delle vetrate e che sarebbe sicuramente un qualcosa di ottimo per la popolazione di San Derserio ma per tutti i cittadini del Vallo Idiano.